Salve a tutti e bentornati per questo nuovo video, andrò a mostrarvi due partite che ho giocato, due partite fenomenali fuori da ogni logica umana. La prima è un gambetto italiano, partita durata solo 8 mosse, l'avversario viene completamente scioccato, scopre il gambetto italiano per la prima volta e poi non so bene cosa sia successo. Mentre la seconda gioco uno dei finali più belli della mia carriera scacchistica, possiamo dire. Intanto siamo arrivati a 80.000 iscritti ragazzi, non ci posso credere, 80.000 iscritti, un lavorone, negli ultimi due anni, un anno e mezzo, siamo cresciuti tantissimo. Io vi ringrazio tutti, veramente, sono molto contento, 80.000, due anni fa non avrei mai pensato di arrivare a 80.000 iscritti con un canale di scacchi. Grazie a tutti quanti per il supporto, continuate a supportare il canale, iscrivetevi, mettete mi piace ai video e, cosa dire, ora dobbiamo puntare ai 100.000, so che sarà difficilissimo. Sarà veramente molto molto difficile ma io sono già molto contento. Grazie ragazzi, iniziamo. Ok, eccoci qui, gioco contro un top 100 al mondo su chess.com, Rapid, aveva oltre 2460 punti quando ho giocato con me. Sapete, Rapid 2460 sei praticamente top 100 al mondo, ok? Gioco con i pezzi bianchi, apro con pedone e4, l'avversario risponde con e5, segue cavallo f3, cavallo c6, alfiere c4 e lui commette l'errore di giocare alfiere c5. In realtà questa, forse ancora oggi, è la mossa più giocata ma ad alti livelli preferiscono cavallo f6. Comunque, qui, sapete no? Ormai mi diverto a giocare il gambetto italiano, che viene contrassegnato come imprecisione, pazzesco. Segue pedone per, cavallo g5, l'avversario qui viene scioccato da questa mossa, dice cosa sto giocando, che apertura è mai questa, non l'ho mai vista in vita mia dopo anni e anni e anni che gioco a scacchi. Gioca comunque la mossa migliore, cavallo in h6, io catturo in f7, lui riprende di cavallo e dopo alfiere per f7, re per f7, gioco donna h5 scacco. In questa posizione l'avversario va completamente di fuori, non sa proprio cosa fare in questa posizione e lascia la partita. Un atteggiamento stranissimo, non so cosa dire ragazzi, qui siamo praticamente nella variante più giocata del gambetto italiano e questo giocatore che è veramente forte a scacchi, dopo un giorno viene addirittura bannato da chess.com. Perché è stata un'esperienza un po' traumatica questa, insomma, di affrontare il gambetto italiano. Vedete c'è il simbolino, è stato bannato per qualche motivo da chess.com, è un peccato perché top 100 al mondo, scopre il gambetto italiano e dopo un giorno viene bannato praticamente. Pazzesco. Quindi mi dispiace ma questa è la partita, come potete vedere il gambetto italiano vince sempre in otto mosse, cioè ha vinto in otto mosse contro un giocatore fortissimo. E se lui usava programmi ancora meglio, insomma, il gambetto italiano batte uno che usa programmi. Cioè questo va completamente di fuori, esce, abbandona e se ne va. Ma ora voglio mostrarvi la partita in cui ho giocato un finale spettacolare. In questa partita gioco comunque con i pezzi bianchi. Apro con E4, l'avversario risponde con C5, difesa siciliana, seguo il cavallo C3, cavallo C6, alfiere B5. La mia idea è di doppiare i pedoni. Lui continua con G6, vuole fianchettare l'alfiere camposcuro. Qui gli doppio tranquillamente i pedoni e dopo la cattura gioco pedone D3. L'idea è giocare F4, cavallo F3, arrocco, in stile Grand Prix, però qui devo giocare contro i due pedoni doppiati. Lui occupa il centro con E5. Io gioco F4. Dopo pedone per F4, alfiere per F4, lui gioca alfiere G7. Qui effettivamente non sto male in questa posizione, perché abbiamo aperto la colonna F dove ci piazzerò sicuramente una torre e potrò poi cercare di attaccare sul lato di re. Qui continuo con cavallo F3, lui gioca a cavallo F6, segue arrocco, arrocco e donna E1. Cosa sto cercando di fare? Sto cercando di venire e attaccare appunto il lato di re. L'avversario continua con cavallo H5, sono costretto a spostare l'alfiere, quindi guadagno un tempo sulla donna. Lui gioca F6 senza problemi, ritiro l'alfiere in E3 attaccando C5 e dopo B6 gioco donna D2. Posizione equilibrata, però non sono contentissimo perché non sono riuscito ad attaccare e questo alfiere effettivamente sta diventando pericoloso, perché io non ho il controllo sulle case chiare, questo è il problema. Quindi non posso neanche effettuare un attacco sul lato di re. Tosta questa partita. L'avversario spinge in F5 e gioca la migliore. Io continuo con l'alfiere H6, l'idea è di togliere di mezzo la coppia degli alfieri. Lui gioca F4, la migliore, è mossa pazzesca questa. Catturo in G7 e dopo cavallo per G7 gioco pedone B3. Pedone B3 sembra bruttina, però voglio fissare i pedoni suoi sul lato di donna, non voglio che spinga in C4. Lui gioca alfiere G4, la migliore, quindi come vedete sta facendo un'ottima partita. Io continuo con H3, interrogo con l'alfiere. L'alfiere cattura addirittura, wow, questa è la migliore. Riprendo di torre e l'avversario gioca cavallo in E6 per entrare in D4. Qui continuo con torre F1, raddoppio le torri. E lui gioca pedone G5. C'è un piccolo problema in questa posizione. Che lui ha la maggioranza pedonale, ora sul lato di re possiamo dire. Quindi può iniziare a spingere e ad effettuare un attacco. Sono un po' nei guai, devo cercare il contro gioco, non so bene cosa fare in questa posizione. Gioco cavallo E2 per controllare la casa D4 intanto. Lui continua con donna D6. Con donna D6 non si sa bene, boh, difende F4. E comunque collega le torri, quindi qualcosa ottiene. Qui continuo con donna E1, l'idea è di giocare pedone G3. Segue torre D8, pedone G3. Bella mossa questa, sono pronto a cambiare tutto. Lui cattura clamorosamente. E qui mi facilita un pochino il tutto. Perché in questa posizione posso semplificare la posizione appunto e giocarmi il finale. Catturo in F8, dopo torre per F8, torre per, re per, donna per pedone, donna per donna, cavallo per. Entriamo in questo finale dove abbiamo pedoni pari, un finale complicato dove lui ha due pedoni contro uno di qua sul lato di re e però lui si ritrova ad avere due pedoni doppiati sul lato di donna. Quindi questi finali sono finali complicatissimi. Io mi diverto a giocarli, mi ritengo bravo comunque nei finali e vediamo cosa succede. L'avversario continua con cavallo D4. Gioco pedone C3. Attacco il cavallo. Non mi può dare scacco perché c'è il mio cavallo. Quindi non può attaccare nulla. Lui continua con cavallo E6. Arriva a cavallo E2. Con cavallo E2 impedisco cavallo F4. Segue Rf7. Allora è arrivato il momento di mettere in gioco il re. Re F2. Re G6. Re G3. Pedone H5, giusto? Lui deve sfruttare questi due pedoni, deve crearsi un pedone passato. Io gioco H4. Segue pedone B5 da parte sua. Qui ero nei guai effettivamente. Mi sembrava di stare peggio. In realtà è pari la posizione. Pedone D4. Trovo la mossa migliore. Incredibile ragazzi. Eh, non potevo perdere tempo. Anche se qui gli sdoppio i pedoni. Però almeno cerco di crearmi anch'io un po' di spazio. Insomma, per crearmi un pedone passato. Per cercare di spingere questo pedone poi. Lui cattura. Io catturo di pedone. E arriva a pedone B4. Questa è un'ottima mossa. Mi blocca il pedone in A2. Il pedone in A2 ora è molto debole. Decido di spingere in D5. Gioco la migliore. Lui cattura. Io catturo. E deve spostare il cavallo. Ok? C'è da fare attenzione. Perché vorrà sicuramente attaccarmi questi pedoni. Però per il momento me ne frego. E gioco il cavallo D4. Quindi anch'io vado a caccia di questi due pedoni. Lui spinge in G4. Mossa assurda questa. Cioè, si crea un pedone passato. Anche se il gioco comunque si stava svolgendo tutto di qua. Lui se ne esce con G4. Gli adà come mossa ottima. Non cambia la valutazione della posizione. Continuo quindi con cavallo C6. Attacco il pedone in A7 e B4. Lui gioca A5. Catturo. Segue cavallo scacco. Re F4. Cavallo C6. Questa è bella. Minaccia di catturare con scacco. E di catturare in A2. Quindi decido di spingere il pedone. Lui viene indietro con il re. E gioco cavallo in C6. Non posso entrare in G5. Altrimenti va a promozione con il pedone. Quindi non posso rischiare. Quindi lui qui gioca re in E6. Pazzesco. Questa è una mossa forte. Gliela dà. Continuo con il pedone D7. Ormai lo sacrifico con il pedone. Lui cattura e cattura in B4. Olè. Ho due pedoni passati. Segue re D6. Pedone A4. Ora devo spingere per andare a promozione. Però lui mi dà scacco con il cavallo. Poi mi attacca in B3. Quindi gioco cavallo D3. Offro il cambio dei cavalli. Ma voglio venire anche di qua a catturare. Lui cattura un pedone. Gioco cavallo F4. Lui gioca cavallo C6. Aia. Questa è sbagliata. E da qui vado in vantaggio. Effettivamente qui cos'è che aveva? Eh non è facile eh. Cioè non è così banale pareggiare ora per lui. Perché ho questo pedone passato. Però cavallo in C5 è brutta. Spingo in A5. Lui viene con il re e vuole fermare il pedone. Però di qua iniziano a cadere i pedoni. Quindi cade tutto. Ora ho ben due pedoni in più. Entrambi passati. Il re può fermarne uno. Però vediamo se il cavallo riesce a fermare quell'altro. Basta fare un po' di attenzione. Togliere tutte le case disponibili per il cavallo. E poi vincere la partita. Guardate il cavallo non può fare niente. Cioè il cavallo ora non può saltare qui. Perché il re lo cattura non può saltare in G8. Non può saltare in F5. Quindi avevo calcolato tutta sta roba. Qui si va a promozione. Si vince la partita. E questo secondo me è un finale strepitoso. Finale di cui sono molto molto contento. Allora devo dire che mi sto riprendendo. Mi sto riprendendo alla grande ragazzi. Perché se andiamo a vedere il profilo. Sto salendo in tutti i punteggi. Soprattutto quello rapid che mi interessa particolarmente. Guardate qui che grafico. Cioè ero sceso tantissimo. Mi sto riprendendo alla grande. Siamo oltre ai 2400. E la cosa che ha fatto scattare un po' Tutto questo processo insomma di miglioramento negli ultimi giorni. E che sto iniziando a registrare un corso. Un corso da zero. Però da zero a 2000. Insomma ci sono nozioni molto molto utili. Che non conosce ad esempio neanche Montemagno. Ho visto. Montemagno sta a 1540. Succede su Tocom. Ma dal punto di vista della valutazione della posizione eccetera. Ci sono tante tante cose che attualmente ignora. Quindi sto preparando questo corso. Però ho fatto solo un capitolo per ora. Durerà tipo 5-6 capitoli. Quindi il corso durerà ore. Mi voglio impegnare. Perché non ho mai fatto corsi eccetera. Voglio fare questo corso. E sarà il mio primo corso di scacchi. Devo dire che questi concetti mi stanno aiutando tantissimo. Chiaramente quando uno gioca a 10 deve avere la fortuna di non beccare cheater. O di non giocare contro un'intelligenza artificiale o cose del genere. Perché insomma sappiamo che a 10 è estremamente pericoloso. Tuttavia 2411 mi piace. E con questo video è tutto. Grazie a tutti per la visione. Grazie a tutti per le iscrizioni. Siamo a 80.000 ancora non ci credo. Grazie ragazzi. Sono contentissimo. E alla prossima. Ciao.